Aaaaaaah è tempo di che cosa? di fragole, tempo di fragole poi, vi sei sbagliati un pochino più tardi facciamo finta che è sabato e domenica e volete fare un regaletto a quella persona che avete dentro al letto e quindi di nascosto volete fargli una sorpresa eccola qua la sorpresa, ora la dico io facciamo, non li voglio chiamare pancake voglio fare delle frittelle da accompagnare con un po' di fragole e ricotta va bene? e facciamo insieme quindi gli ingredienti abbiamo ricotta, fragole burro sciolto zucchero, limone un po' di lievito per dolci un uovo, ho la maniglia in polvere poi dico anche perché l'ho presa la maniglia in polvere zucchero e farina e latte quindi, la prima cosa che faccio è divido l'albume d'artuolo sentite la musichetta? sentite come vado eh? la storia in viola la figata eh? allora, quindi il rosso lo metto qui e vado con l'albume quindi, monto subito l'albume bello allora, lo monto così quindi, quando non diventa bello denso e fermo si usa dire schiuma da barba quindi, mostrate a vedere che si è sempre a montare rivenite quando è già montato però attaccavi eccola qua, vedete? Falciuffetto è pronta adesso bella questa allora, poi facciamo così prendo il rosso lo mescolo ci metto lo zucchero che è già pesato poi vi dico tutta la ricetta non cominciate affatti eh? ma la ricetta ci sarà tutto tutto scritto allora, quindi zucchero con il tuorlo e vai e poi la farina setacciata che fai? a mettere la farina così stavo a scherzare adesso adesso attacca eh? vado farina 0,0 vado questi si dolci e piacciono a me subito, veloci, espressi senza troppo perde tempo metto il cucchiaino qui di lievito pure questo lo setaccio perché sennò c'era presente quelle palline che si mettono dentro là mentre mangiate il dolce sentivano la prima amara non c'erano problemi così ci siamo e adesso un po' di latte quindi non fate piano non fate rumore che dormono dormono di là eccoci qua a me piace questa consistenza bella un altro pochino adesso l'albume e un pochino di burro guardate ma quanto è bella sta canzone mmm ecco qua un pochino di burro o se no dell'olio di semi vaniglia allora mo subito qualcuno dirà la vaniglia così secca vi dico io perché quante volte avete comprato la vaniglia che è proprio proprio dei bastoncini secchi sembrano degli dei cosi degli stuzzicadenti quindi per scomprarla già secca la pago di meno sto mettendo gli albumi ecco qua un profumo fantastico è naturale questa vaniglia che ho preso mescolo sempre come dice dal basso verso l'alto e mi piace questa consistenza da morire gli albumi sempre alla fine vedete? così do la giusta consistenza mi piace vedete quanto è bella bellissima profumata e adesso mentre questa riposa io faccio una marmellatina veloce espressa da mettere sopra le nostre frittelle padella calda le fragole tagliate così piccole così ci spieghiamo subito a farla capito? la nostra marmellatina al volo, al volo, al volo un po' di zucchero poco eh così ma che profumo un po' di scorza di limoglio mescoliamo mmm mmm bene così devo rimanere pure un po' a dadini cioè non li devo proprio far spappolare proprio capito? così un profumo ragazzi eccezionale eh proprio tre minuti di tempo non di più una cosa che sta benissimo se ce l'avete con le fragole è questo il timo provateci il timo è fantastico con le fragole ecco qua adesso dedichiamoci le nostre frittelline ok? quindi mettiamo un po' di burro bene il calore deve essere abbastanza calda ecco qui vediamo la consistenza mmm un po' troppo dura poco 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 andiamo con perché mano a mano che si riposa un po' si indurì adesso ci stiamo ecco vedete com'è guardate scende bene e adesso proviamo vediamo un attimino mestolino facciamo fare la crosticina sotto mano a mano appena si è fatta la crosticina sotto la giriamo allora questa è come le crespelle e guardate che la prima è sempre non bellissima però invece mi posso nemmeno lamentare può andare questa così e vado così ne faccio altre due eccoci qua l'ultima adesso lavoro un po' la ricotta un po' di latte e vai così morbida 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 poi diventa e incominciamo a fargli quello che abbiamo detto no? la sorpresina ah che meraviglia che bontà mmm così ne diamo due sì dai due come? una volta me lo mangio io ahahah le fragole semplice 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 o no? eh? ma sto liquido che faccio? ogni momento a noi ci piace così bella sozza golosa la ingolosiamo vai vai mamma che bello guarda che bello e mo e mo non posso dire a quello io faccio così dai assaggio così io faccio così la scarpetta così così oddio mmm mmm che buona fa proprio vedo? la scarpetta qua dentro le fragole ma che c'è po' semplice sempre economico e buono buona colazione con tanto amore ciao ciao vi è piaciuto questo video? certo che si era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perderete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like oh e andiamoci alla mostra con questi like un bacio e un abbraccio a tutti mua